La quarta settimana di allenamenti in quarantena si è aperta con un altro sgradito rinvio fino al 30 aprile. Ad annunciarlo è stato ieri Vincenzo Spadafora, ministro di uno sport che rischia il crack, soprattutto nel comparto dell'azienda Calcio, la terza industria del paese. A malincuore ha proposto di prologare per tutto il mese di aprile il blocco delle competizioni sportive di ogni ordine e grado. La misura va estesa agli allenamenti. Riprendere il campionato di calcio il 3 maggio è irrealistico. Irrealistiche, a questo punto, appaiono anche tutte le ipotesi di ripresa che si stavano continuando a fare e si stanno facendo, anche se in Lega Pro inizia a serpeggiare il pessimismo. Non a caso i presidenti si ritroveranno venerdì prossimo, riuniti in call conference, per decidere il da farsi e valutare persino l'ipotesi di una chiusura anticipata della stagione, come avvenuto per basket e rugby. Cosa non semplice, anche perché qualsiasi progetto futuristico e ottimistico rischia di schiantarsi contro la realtà. Damiano Tommasi, ieri sera a tal proposito, ha dato quasi per scontato l'annullamento del campionato, ma questa mattina, dopo che tante squadre si sono ribellate, Gabriele Gravina ha subito gettato acqua sul fuoco. La priorità, ha detto, è terminare i campionati entro l'estate, anche perché non ci possiamo permettere contenziosi sul profilo procedurale e legale. Gravina ha anche aperto però alla possibilità di una riforma del campionato di Serie C. Bisogna tornare ad un'eccellenza di Lega Pro di 20 squadre e poi 40 in una serie semiprofessionistica. Dichiarato Ghirelli già conosce questa proposta ed è favoreore, ma tutto dipende dalle società. Gravina. 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 Gravina.